come un uccellino spezzato e andare via e così il presidente lasciò il suo bambino in una tomba presa in prestito che bello ci incontreremo tutti quanti nella mia antica magione e io sarò una simpatica vecchietta dice mamma voi ragazzi mi porterete le torte dalla mattina alla sera io me ne starò seduta chissà come sarò grassa voi ragazzi dovrete comprare un carretto e trasportarmi attorno mamma ha una risata così bella it thinks i'm going to be here forever and it thinks that i'm the center of the universe so this book for me was that process but of course every person in the book is me just like every person in the book is you if you read the book and you respond to it part of your spirit or part of your psychology is coming to meet mine in that beautiful union so i can't i really can't answer the question i can't quite explain except to say that i wrote the book over and over and over again in those four years and it kind of just like these sculptures that kind of appeared out of the stone at the end per me la scrittura del libro è stato un po questo cercare di stupirmi continuamente di uscire dalla pigrizia che mi fa pensare che io sarò qui per sempre il libro quindi è un frutto di questo processo ma al tempo stesso tutte le voci del libro sono sono io ma tutte le voci del libro sono anche tu o sotto qualsiasi lettore ritrova la sua voce tra le voci del libro è una domanda molto difficile a cui rispondere quello che io posso dire che io sono andato avanti a scrivere a scrivere per quattro anni e tutto un tratto mi sono trovato davanti il libro un po come mi sono trovato davanti a alcune delle sculture che ho visto qui nel cimitero sedevano sull'erba intorno a me i loro occhi ardevano di desiderio intenso amoroso io sedevo sulla sedia di vimini col mio vestitello prugna in quel cerchio di sguardi ardenti amorosi anche fino a sera poi uno dei ragazzi si stendeva sull'erba e diceva oh le stelle e io oh sì come sono belle stasera mentre lo ammetto immaginavo di sdraiarmi accanto a lui poi ero di nuovo lì sul sentiero con i miei due amici e sotto di noi si stendeva una valle lontana dove io curiosamente sapevo che eravamo diretti avvistamo una scala di pietra i miei compagni si fermarono si voltarono indietro riconoscendo che ero un uomo di dio mi avevano seppolto con i paramenti sembrarono chiedere allora si va fai dicendo di sì dalla valle di sotto una specie di canto voci esaltate il fragore di una campana quei rumori mi appagarono avevamo viaggiato eravamo arrivati i festeggiamenti potevano cominciare e poi disgraziatamente mi trovai di nuovo qui mia moglie e i miei fedeli stavano andando via in carrozza ogni tanto mi tiravano un pugnale verde non meno doloroso malgrado fossero già lontani e poco dopo il corteo attraversò il potomac andò da prevei per il rifresco funebre fui colto dal panico all'idea di stare bloccato qui volevo solo raggiungere i miei amici lì su quella scala ormai questo posto era ben poco allettante un ossario una fossa comune una discarica come è riuscito emotivamente se questo si può raccontare a non cedere raccontando la morte alla tristezza oltre a dire i think you know if you were if we were here in this crypt whatever and suddenly we heard some wolves outside you know howling they're hungry wolves one impulse might be to pretend that we didn't hear it no 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 this probably just dogs you know or something but at some Quindi, a un punto, sembra di me una più positiva reazione di dire, ok, ci sono i wolfi, e ci sono i loro hungry, e ci sono i problemi. Quindi, tu puoi iniziare a fare una parte. Una volta che riconosce la situazione che siamo in, poi, almeno, tu sei non essere stato benvenuto da quella denial energia. Quindi, parto di... I'm trying to come to grips with this idea that, you know, we certainly all seem to be made to love. You know, we find people to love and that becomes the reason we live. No matter what we think the reason is, ultimately, the people we love, that's the reason. And then, at the same time, we know that all those people are conditional. That everything that we love, including ourselves, including our house, that it's all going, for sure. I mean, a place like this reminds us of that very dramatically. So, the question is, how can you live, you know, a fearless, productive life, without being in denial about death? So, that's one answer. The other thing is, I think sometimes it's just tragedy and comedy, that's just a distinction we make artificially, you know. When I was young, somebody I loved very much died, and our family was distraught. The worst thing that could ever happen. And when we came out of the funeral, it was being held near one of those American strip malls, and across the street there was a restaurant called Chuck E. Cheese, if you know this place. It's for children, and it has a sort of a mascot of a giant rat. A guy walks around in a rat costume. So, we came out of the funeral, and he was outside having a cigarette, you know. So, you think, which is true? Which is real life? And, you know, both. Both. I think that if, in this moment, for example, we have a lupi in ulular, initially we would say no, no, it's not possible, they are certainly cani, but I think that a situation like this should be faced in a more positive way, more aware, that at a certain point, if you have a lupi, they have a fat, and we have a problem. And when you really take the awareness of a situation, which is it, and you then, you get the allegation, it's all easier. I think that we are made for love, we are made for love, and we can think of what we want, but the reason why we are in the world are the people that we love. At the same time, all the things that we love, and all the people that we love, are evanescent, and I think that we can live a more productive life when we understand that what we love can't disappear, and that it will not be here for forever. And with respect to what you said between tragedy and commedia, it is, I think, an artificial distinction. I remember an episode when I was very young, I was born a friend of my family, and it was an extremely tragic moment for all of us. We went to the funeral and it was a really sad moment. And we went to the cemetery, we went to the cemetery, we went to a restaurant, one of these restaurants called Chucky Cheese, which is called Chucky Cheese, which is a restaurant for children, and out of Chucky Cheese there was a giant man, a giant mascot, dressed by a top, and out of the restaurant that was smoking a cigarette. and this is the real life with this real life in which we live with tragedies and commedies. Thank you. Thank you. Grazie.